Speriamo di tornare a scuola e tornare alla normalità al più presto perché appunto è quello che tutti noi vogliamo e che ci aspettiamo. Salvo sorprese dell'ultimora, il 7 di gennaio anche gli studenti delle scuole superiori torneranno sui banchi con una percentuale però del 50% fino al 15 gennaio, data in cui scadrà il DPCM attualmente in vigore. Più che altro vedere i compagni o comunque anche i professori quando spiegano vederli fisicamente è molto meglio, si segue molto meglio anche se comunque anche da scuola da casa volendo si può seguire bene ma ovviamente tutto un altro paio di maniche perché a scuola si è in un ambiente più bello e siamo tutti più uniti e anche più divertente se vogliamo. Il nodo più importante rimane quello dei trasporti, saranno infatti 103 gli autobus aggiuntivi che dal 7 gennaio TM metterà a disposizione proprio per potenziare la flotta impiegata sui servizi scolastici. Di questi 15 interesseranno il bacino di Arezzo, anche se nel complesso il numero di mezzi messi a disposizione sarà più ampio in quanto nel territorio aretino TM opera in modo consortile. Il potenziamento dei mezzi consentirà di attivare corse bis sulle linee extraurbane e urbane a maggiore frequentazione da parte degli studenti. I costi saranno coperti dalle risorse appositamente stanziate dalla regione toscana e l'andamento del servizio sarà comunque costantemente monitorato.